La cyber security è priorità assoluta. L'escalation di attacchi informatici sempre più sofisticati richiede un impegno costante da parte dei professionisti del settore per contrastare le minacce in continuo cambiamento. Di questo si è parlato nella sala Francesco Merloni presso l'ITS Academy di Fabriano, un workshop tra IA e cyber security d'impresa, la rete fibra FTTH indipendente e infrastruttura fondamentale per un futuro digitale sicuro. La tematica è particolarmente fresca e attuale, i contenuti sono orientati a creare un momento di informazione all'imprenditoria locale su quelle che sono le tematiche in ambito area sicurezza informatica, un ambito di particolare attualità e strategico per la continuità operativa delle nostre imprese. L'evento è organizzato da Fibra Web in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e l'ITS Academy di Fabriano. Come per ogni territorio che guarda al futuro, l'avvento del digitale ha portato molte opportunità ma anche sfide, tra cui la crescente minaccia di attacchi informatici. I miei contenuti sono relativi alla fibra perché la nostra azienda è specializzata in questo settore, ha costruito una rete fibra ottica indipendente e la fibra è a supporto di tutte le tecniche di cyber security e di aiuto agli aziende per costruire dei sistemi di disaster recovery e dei backup, perché oggi è strategico prepararsi perché prima o poi in attacco può arrivare. Un argomento di stretta attualità per le imprese, comprese quelle a Fabriano. Avere i partner giusti è la chiave per informare sul tema e far conoscere anche ai più giovani l'importanza della cyber sicurezza. Un protocollo bilaterale perché tutti gli effetti ITS utilizzerà le nostre infrastrutture tecnologiche, la nostra connettività e da parte nostra cercheremo di fare tirocini con le figure, pure perché a noi ci interessano molto le risorse perché stiamo crescendo e abbiamo bisogno di figure professionali preparate ed efficienti.